Siete degli aspiranti re dei pirati e volete controllare costantemente la bordo avversaria? Preferite difendervi dietro un muro invalicabile, pronto a cogliere di sorpresa le linee nemiche attraverso attacchi sempre più afferati? Quale sarà il leader che potrà permettervi di sfruttare tale archetipo garantendovi anche buoni piazzamenti durante i local? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siamo ancora in attesa del settimo capitolo del TCG di One Piece ma nel frattempo molti sono stati i protagonisti che hanno iniziato a dominare il meta che verrà soprattutto nelle terre del sollevante. Tra tutti però una in particolare ha tratto la mia attenzione vuoi perché ha una forte attitudine verso gli archetipi control vuoi perché anche tra 500 anni riesce a far parlare di sé e del colore che rappresenta, ovvero il verde. Infatti la figlia di Kuma, Bonnie, grazie ai preziosissimi supporti che arriveranno per il tratto supernova riuscirà a mettere assieme una ciurma davvero pericolosa che nei prossimi mesi potrà darci la possibilità di testarla con mano facendoci rendere conto del reale valore che il leader in questione riuscirà a dimostrare sul campo da battaglia. Nel video di oggi perciò andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale, o per meglio dire futuro e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni di colei che possiede i poteri del frutto Toshi Toshi. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic, per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Bonnie verde, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che con i suoi 5.000 punti di forza e 5 vite al supporto vi permetterà una sola volta per turno, quando verrete attaccati, esaurendo un singolo don, di restare fino ad un leader o caratter rivale. La decklist in questione sarà un tributo totale all'archetipo Control e vedrà al quartetto di Apu costo 1, Bonnie Sercino, Rosinante, Izzo, Basil Hawkins, Cavendish, Cody Jones e Zoro, con il trio di Urog, Bartolomeo, Dellinger e Kid costo 8, assieme alla coppia di Apu costo 2 ed X-Drake per la parte character e le due coppie di More Pizza che chiuderanno sia il settore event che questa profile. Le carte cardine del mazzo saranno di sicuro i Cavendish, che ristoreranno risorse a vostra disposizione, i Basil che se utilizzati a dovere risulteranno una vera e priaspina nel fianco per l'avversario, le Bonnie costo 1 e gli Event per andare alla ricerca delle carte che più vi torneranno utili nel late game, gli Odi Jones che risulteranno fatali soprattutto nelle battute finali di un match, i Kid che vi preserveranno dagli assalti rivali e gli Zoro, tremendi soprattutto se utilizzati in sinergia con i Cavendish. Mentre il resto vi fornirà protezione da qualsivoglia fonte offensiva nemica, sia in fase di counter che, all'occorrenza, attraverso l'utilizzo di abilità blocker o distruggendo caratter avversari tramite effetto. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la possibilità, se avrete un don aperto, da parte del leader di vietare un attacco da una qualsiasi fonte rivale e grazie agli effetti di Urog e della stessa Dellinger vi sporrete di quella risorsa utile che vi potrà trarre in salvo soprattutto contro mazzi aggressivi o pieni di colossi pronti a frantumare la board che avrete sotto il vostro controllo. Se poi possiederete dei Kid a disposizione sul terreno, riuscire ad arrivare alle vite che avrete a disposizione risulterà ancor più difficile da fare. Ultimo, ma non per importanza, vedrà l'innesco di abilità estremamente difensive come quelle di Rosinante e Hawkins, che andranno a deviare gli attacchi di eventuali fonti offensive su altri bersagli validi, per non tacere del fatto che, se sarà presente uno o più Bartolomeo in campo, la possibilità di ciclare carte dal deck aumenterà la possibilità di recuperare elementi fondamentali per la riuscita in pieno della vostra strategia di gioco. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che lo muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Stallate quanto più possibile e poi sferrate attacchi pesanti che risulteranno difficili da sostenere per le difese nemiche. In più, andate a salvaguardare gli scudi a vostra disposizione attraverso l'utilizzo del potere del leader e dei character che faranno del controllo board un'arma fondamentale. Per la fase offensiva avrete a disposizione un massiccio reparto rappresentato dai Cavendish che forniranno energia nuova alla stessa ripristinando due donne ad ogni attacco, gli Odi Jones fortissimi grazie al loro rush e alla possibilità per voi di controllare le giocate avversarie anche in fase di counter, i Kid che con un don addosso attaccheranno per 9.000 risultando poi l'unico obiettivo valido da bersagliare nel turno rivale e gli Zoro che potranno addirittura, se le condizioni ve lo permetteranno di battere per tre volte sul muro preventivo di chi vi giocherà contro. Per quella difensiva saranno presenti molti blocker, a partire dai Rosinante passando per gli Urog, i Bartolomeo, i Basil che all'occorrenza comunque potranno anche attaccare e gli stessi Kid che non saranno proprio dei blocker ma per chi è un nuovo marinaio il più delle volte assolverà nel migliore dei modi al suo compito rispetto ad un blocker tradizionale. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo un sercino qualunque, un Kid, un blocker preferibilmente a costo 3 o inferiore, un Cavendish e un Basil. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, questo mazzo andrà contro tutto e tutti senza preoccuparsi di nessuno a parte dei combo, quindi il verde opposto contratto film o qualsiasi altro deck che possa incastrare giocate micidiali atti a smontare qualsiasi sinergia e mettere pressione alle dinamiche di gioco vi farà penare, ma per il resto ci andrete giù come un martello sul vetro. Per la win condition ce n'è una sola, o almeno questa è quella che ho testato personalmente. Controllate, controllate, controllate e poi attaccate con caratter dalla potenza molto elevata come gli Zoro, i Kid e gli Yodi. Dovrete comunque prima avere il controllo certo della partita e solo allora potrete mettere la testa fuori dalla fortezza che vi sarete costruiti pensando alla fase offensiva. Invece le carte obbligatorie che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento saranno le Bonnie dello starter, le Izzo, i Cavendish, gli Yodi Jones, i Kid e gli Zoro. Ho visto comunque alcune liste giocare Doflamingo a costo 10 e le controparti SR del leader che non permetteranno al rivale di ripristinare un determinato elemento sul suo terreno. Qui invece ho preferito una profile quanto più vicina al tratto supernova per riuscire a reperire attraverso i sercini quel che servirà per le fasi inoltrate di un incontro. Perciò spetterà sempre a voi cercare quale sarà la profile che più si adatterà alle vostre esigenze testando le diverse soluzioni disponibili. Infine per la fase counter avrete a disposizione 23 più 1000 e 10 più 2000 che vi forniranno scudi lì dove ne sarete sprovvisti o per mantenere quanto più a lungo in vita. ai Kid che si troveranno sul vostro terreno. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Bonnie parte per seconda avendo diversi drop a costo pari e grazie alle dinamiche del deck soprattutto all'aiuto di un Cavendish già presente in campo e pronto ad offendere anche lo stesso Eustace potrà esprimere il suo pieno potenziale se coglierà la curva di Dawn in modo perfetto. Concludendo Bonnie è un deck che sarò davvero curioso di testare in partite reali soprattutto calcolando che altri mazzi molto competitivi appariranno in OP 07 e chissà se dopo l'inizio di questa avventura il verde grazie alla figlia di Kuma tornerà a dominare i tavoli da gioco magari assieme al rosso di Dragon. Staremo a vedere. E voi siete curiosi di vestire i panni della Capitana? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.